Dopo le tensioni delle scorse settimane la Commissione Bilancio ha dato il via libera alla finanziaria regionale 2014 che approderà in aula la prossima settimana. L'assessore Roberto Ciambetti ha modificato la previsione di spesa per venire incontro alle richieste del Consiglio. Non abbiamo risorse illimitate perché io ho sentito il libro di sogni da parte di qualche consigliere. Qualcuno anche dovrebbe rivolgersi magari a chi a Roma ha tagliato certe poste di bilancio. Però appunto noi come Regione Veneto dimostriamo ancora una volta che riusciamo a mantenere un elevato standard di servizi con risorse limitate e senza mettere le mani nei taschi di Veneti. Tra le variazioni più significative uno stanziamento di 150 milioni in tre anni per il nuovo ospedale di Padova. Tutte le forze politiche hanno condiviso che costruire il nuovo ospedale di Padova significa dare una risposta ai cittadini non solo padovani, non solo del Veneto. Dai 30 ai 40 milioni saranno invece stanziati per gli interventi necessari al ripristino dei danni causati dal maltempo di gennaio. 16 milioni andranno a integrare il bilancio della sanità per le spese del sociale. Queste erano un po' le priorità che avevamo chieste e l'assessore questa mattina in Commissione Brema ha aderito alle nostre richieste. Quindi io penso che per quanto ci riguarda andremo in aula e risolveremo questa pratica del bilancio che purtroppo ogni anno diventa sempre più in là nei tempi. Insoddisfatti i consiglieri del PD che ritengono insufficienti le risposte fornite dalla Giunta. C'è pochissimo per quanto riguarda il sociale, c'è nulla per quanto riguarda il trasporto ferroviario e cadenzato, il trasporto gomma, c'è pochissimo per quanto riguarda gli interventi da fare sul risanamento ambientale.